Amici del software libro open source, benvenuti o bentornati in questa 174esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie della settimana appena trascorsa. Anche questa è una puntata video se mi seguite sul canale YouTube, quindi potete vedere anche le slide di quello che vi parlo in questa puntata. Questa puntata sarà dedicata principalmente a alcuni rilasci che ci sono stati in settimana, perché c'è stato il rilascio di Gnome 46, c'è stato il rilascio di una nuova versione di Firefox, la versione 124, e poi ci sono state due notizie importanti perché riguardano due incidenti di sicurezza, uno riguardante lo Snap Store di Canonica, e direte voi dove sta la novità, in effetti sì, ultimamente ne sta uscendo male sotto questo punto di vista, e un incidente di sicurezza che è riguardato invece lo store dei temi di KDE. Ma andiamo con ordine, iniziamo prima con le notizie quelle un po' più leggere. La prima notizia riguarda una guida che ho postato sulle pagine del blog, che vi spiega come installare Cosmic Desktop Environment su Fedora, Fedora 39 e Fedora 40 della Fattispecie. È di una banalità, di una facilità disarmante installare Cosmic Desktop Environment su Fedora, perché basta aggiungere un repository di terze parti, mantenuto da uno sviluppatore esterno, che ha deciso di compilare e mettere su questo repository su Copra, quindi il sistema di repository di terze parti di Fedora, e installarlo è semplicissimo, si aggiunge il repository, si dà un altro comando e si installa Cosmic Desktop Environment. Io purtroppo non ho potuto installarlo in macchina virtuale, perché mi usciva in fondo una serie di errori nella macchina virtuale quando andavo ad installare Cosmic, però alcuni di voi lettori l'hanno fatto, qui potete vedere uno screenshot che mi è stato gentilmente fornito da uno di voi, e la guida funziona, è possibile testare il tutto. Fa specie però, se ci pensate, scoprire che è facilissimo installarlo su Fedora, ma non è tanto altrettanto facile installarlo su PopOS, quindi la distribuzione principe legata a System76 e legata a Cosmic. Tiratino d'orecchia a quelli di System76 che non hanno pensato di mettere su un repository per poter installare tutto. C'è da dire che all'interno del repository di PopOS è possibile, comunque perché sono presenti alcuni applicativi che già sono stati completati, cioè il file manager, che più che c'era l'editor di testo, c'era lo store delle applicazioni, ve l'avevo mostrato anche nella precedente puntata del podcast, però non c'è un modo semplice per poter installare Cosmic, almeno fino a questo punto. Vabbè, se siete ansiosi anche voi di vedere Cosmic Desktop, installatevi Fedora. L'altra notizia riguarda il rilascio di Gnome 6, nome in codice Katmandu. Il progetto Gnome ha infatti annunciato il rilascio di questa nuova versione, di questa nuova major release di Gnome che prende il nome dall'ultima città in cui si è svolto il meeting. Sapete bene che Gnome sta iniziando a fare una... da diverso tempo, anzi, lo fa da diverso tempo così, che i nomi in codice delle versioni di Gnome prendono il nome dalle città in cui ci sono i meeting degli sviluppatori. Questa nuova versione di Gnome si concentra sui miglioramenti nella ricerca files, quindi adesso c'è una ricerca globale più efficace e efficiente. Ci sono dei miglioramenti nel file manager che oltre ad avere una ricerca globale, anche qui, è stato migliorato grazie al refactoring del codice, adesso è migliore in termini di velocità, quindi è più prestante. Qui potete vedere anche uno screenshot poi di un'altra funzionalità che è stata introdotta, quella, la finestra di pop-up che vi appare quando c'è la copia dei file, adesso è stata spostata in basso a sinistra, è anche più coerente graficamente. Miglioramenti poi nella vista griglia, nel rilevamento delle reti, quindi hanno lavorato molto sul file manager. Altra novità riguarda la funzionalità degli account online di Gnome, che adesso supporta anche Microsoft OneDrive, l'accesso remoto con RDP, impostazioni migliorate con nuove impostazioni del touchpad, pulizia del codice, ma soprattutto ci sono poi i miglioramenti nell'accessibilità, quindi riguarda soprattutto l'utilizzo di Orca, poi ci sono miglioramenti per quanto riguarda le notifiche, miglioramenti nell'applicazione software, miglioramenti nell'applicazione map, insomma, hanno lavorato per rifinire il tutto senza stravolgere Gnome. Come potete vedere, io ho installato l'ultima, cioè anzi, ho installato Gnome, l'ho installato su Endeavor OS, e perché ho installato Endeavor OS dopo il pasticcio della scorsa settimana? Perché ho deciso di provare a utilizzare Gnome come mamma l'ha fatta, e quindi ho deciso di installare la distribuzione che mi permette di fare questo senza troppi sforzi, e ho deciso di installare Endeavor OS, quindi base ArchGinux, e mi aspetto che nei prossimi giorni arrivi finalmente nei repositori di ArchGinux, in modo da potervi fare anche magari una recensione, una reaction a caldo, soprattutto in virtù del fatto che, come ben sapete, sono un utente KDE, amo KDE, e quindi vi posso fare anche una recensione facendo un confronto da un utente di vecchia data di KDE che prova Gnome. Dicevamo poi ad inizio puntata che c'è stato il rilascio anche di Firefox, di una nuova versione Firefox, precisamente Firefox 124. Anche in questo caso gli esiglupatori si sono concentrati sui miglioramenti per quanto riguarda l'accessibilità, c'è poi un'altra miglioramenti che sono stati fatti nella navigazione Caret, che ora funziona anche nel visualizzatore di PDF, questo è sempre un argomento che riguarda l'accessibilità, ci sono poi miglioramenti per quanto riguarda Firefox su Windows 11, su Mac OS, e un'altra novità di questa versione è che, a partire da questa versione, quanti il motore di ricerca alternativo che non vi traccia, bla bla bla, quindi ne parlerò magari in qualche puntata, fare un qualche approfondimento su questo motore di ricerca, dicevo adesso quanti sono disponibili anche in Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera, e quindi adesso su Firefox avrete anche l'inconcina per andare a cercare direttamente su Quant, poi magari fatemi sapere quanti di voi utilizzano Quant, scusate il gioco di parole. L'altra notizia interessante di questa settimana riguarda Red Hat, che ha annunciato il progetto nuova, che mira a realizzare un nuovo driver Nvidia scritto in Rust, ormai Rust è dappertutto, tutti quanti amano Rust, e tutti quanti cercano di sviluppare codice in Rust, e non fa eccezione nemmeno Red Hat. E questo nuovo driver solo GSP è basato su Rust, per GPU Nvidia, però quelle di nuova generazione, quindi da Touring e versioni successive. Con questo nuovo driver che stanno sviluppando, gli sviluppatori avranno l'occasione per ridurre significativamente la complessità del driver rispetto a 9, e grazie anche a Rust, il driver secondo voi sarà più facile da mantenere. Maggiori informazioni su questa notizia, la trovate come sempre sulle pagine del blog, dove trovate il link alla mailing list di Red Hat, approfondimenti poi anche sul progetto nuova, quindi che lo trovate su Github, perché queste sono cose molto tecniche, e ho deciso, è inutile che mi sto a dilungarmi all'interno dell'articolo su blog, anche perché sono cose che non mi competono, quindi non mi cimento manco a stare a parlare di queste cose. Infine, i due argomenti che vi dicevo all'inizio puntata, i due argomenti che riguardano la sicurezza, vi ricordate che qualche mese fa vi avevo parlato di una, anzi no, qualche mese fa, nello scorso mese, a febbraio, dalla scoperta all'interno dello Snap Store di Canonical di un'applicazione malevola che si fingeva portafoglio di criptovalute che aveva prosciugato il cont di un ignaro utente che aveva installato quell'applicazione. Ebbene, non è la prima volta che simili avvenimenti si verificano sullo store di Canonical e a quanto pare Canonical non è riuscita nelle promesse, perché aveva promesso Canonical a seguito di quell'incidente di fare una serie di iniziative volte a scongiurare e ripetersi simili interventi. L'aveva promesso Mark Shuttleworth in persona. Ebbene, queste misure o non sono arrivate per niente o sono inefficaci, a sostenerlo è Alan Pope, ex sviluppatore di Canonical, che ce l'ha anche un po' con i pacchetti in formato Snap. Non so se vi ricordate, era lui che aveva realizzato uno script che vi consentiva di desnappizzare Ubuntu. Bene, sul suo blog personale, Alan Pope ha segnalato come da febbraio ad oggi sono state scoperte sullo store altre 10 applicazioni dannose mascherate sempre da applicazioni per gestire il proprio portafoglio bitcoin. Quindi vanno a pescare sempre su questa tipologia di utenti. Nel suo post emerge come sia banalmente facile pubblicare applicazioni di truffa nello stop store di Canonical senza che nessuno se ne accorga per tempo. È un problema serio, un problema che Canonical deve, secondo me, affrontare di appugno duro perché ne va della fiducia degli utenti nello stop store e ne va anche nell'anomia per quanto riguarda gli sviluppatori perché magari uno sviluppatore di terze parti che vuole pubblicare l'applicazione sullo stop store inizia a dire eh però questo non è tanto sicuro c'è l'anomia di poco sicuro, truffe e quant'altro quindi magari può rinunciare, che ne so, dedicarsi a rilasciare invece la propria applicazione su flat tab in formato flatback. Mi dispiace per Canonical che non riesce a trovare la quadra sullo snap store sia per quanto riguarda il discorso applicazioni di snap che sono lente sia i problemi che sta avendo lo snap store di sicurezza. Canonical, se non c'ha i soldini per mantenere una cosa del genere perché sta continuando a pubblicare, a supportare, a sponsorizzare lo snap store se poi non ce la fa a mantenerlo? O forse si aspettava che sarebbero arrivati aiuti da parte di altre utenti delle comunità linux? Boh, non lo so. Il fatto sta che è un problema gravissimo. Il fatto sta che, un'altra cosa, se avete un portafoglio di criptovalute non andate a installare applicazioni sullo snap store perché ormai è un troiaio di applicazioni malevoli da sopra. Va bene. Passiamo invece adesso all'ultima notizia di questa puntata che è un altro incidente di sicurezza anche in questo caso che mi ha lasciato abbastanza perpresso e anche sorpreso. Se installate temi plasmoide e quant'altro dallo store di KDE direttamente dalla funzionalità inclusa all'interno di KDE Plasma state attenti perché potreste perdere tutti quanti i vostri dati così come è accaduto a un povero utente che dopo aver installato un tema dallo store di KDE si è ritrovato il disco con i dati utente tutti quanti piallati perché praticamente era presente all'interno dello store di KDE un tema che presentava uno script che rimuoveva tutti i dati degli unieri utenti che l'avevano installato lo script andava a eliminare i dati su tutte quante le unità montate andava a eseguire il comando rm-rf cancellando immediatamente tutti i dati personali senza mostrare all'utente una schermata di avviso autorizzazione e quant'altro ovviamente fortunatamente subito è stato identificato questo tema è stato rimosso però aveva già causato danni come è stato possibile tutto questo? beh è stato possibile semplicemente perché il meccanismo di installazione di gestione di temi e plugin e quant'altro come li volete chiamare voi è un sistema che prevede anche la possibilità di avere una funzionalità di scripting e quindi di conseguenza di poter compiere simili azioni è un rischio quindi intrinseco nel sistema di gestione e installazione dei plugin dei temi e non è possibile secondo gli sviluppatori di KDE mettere dei vincoli quindi limitarne le funzionalità a mio avviso invece è possibilissimo perché se è un tema non gli mettere la possibilità di eseguire script cioè il tema deve cambiare solo l'aspetto non deve fare altri magheggi vabbè il team di KDE comunque ha deciso di pronunciarsi ha detto che nel breve termine si concentreranno sulla comunicazione quindi andranno a comunicare agli utenti quali aspettative di sicurezza dovrebbero avere quando vanno a scaricare i temi e i plasmoliti dallo store quindi magari immagino che metteranno un avviso più incisivo non so, qualche cosa che quando andate a scaricare qualche cosa vi compare l'avviso attenzione potrebbe nuocere gravemente alla salute del vostro computer a lungo andare prenderanno due strade la prima è quella di separare i contenuti sicuri quindi quelli che hanno soltanto quelli semplici e quelli che contengono anche contenuti scriptabili la seconda cosa è quella di controllare il materiale presente sullo store di KDE e migliorare il supporto al sandboxing dei contenuti una volta scaricati quindi cercherò di metterci una pezza speriamo che questa pezza sia efficace non sia la pezza che hanno proposto e quella di The Ghost App Store che non è servita a niente e vabbè, con questa ultima notizia si conclude qui questa 174esima puntata del podcast di Marcosbox, non ho dimenticato il numero ovviamente vi invito a seguirmi sui social su Facebook, X, YouTube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon e soprattutto mi trovate su Telegram dove c'è il canale principale che potete utilizzare nel campo di Feed Reader mi trovate a Community Telegram dove potete dialogare e parlare di tutto non soltanto di Linux e trovate poi il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei link referral presenti su questo canale ovviamente potete anche aggiungere a manina voi il codice Marcosbox21 se siete più pratici infine vi ricordo che potete supportare anche YouTube cioè i podcast di Marcosbox blog di Marcosbox e quant'altro seguendomi su YouTube quindi mettendo un like, mi piace e condividete e acquistando anche o rinnovando una VPN da NordVPN in basso vi metto il link referral di NordVPN del canale di Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao